Ciao, creatura. Io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cozai, A-S-M-A. Sempre costantemente fuori, scentrata in tutti i sensi. Vabbè, oggi rispondo alle domande che mi avete fatto sia su IG che su YouTube. Prima domanda, di che segno sei? Sono del segno del toro o del drago? Dipende da quale, non specifica qua quale calendario, quindi ti dico toro e drago. Poi c'è un'altra che non è una domanda perché è un punto esclamativo e quindi risponderò solo alle domande. È un'affermazione che non ha senso. Cioè, a te hai mai vissuto una delusione amorosa? No, dai, rispondo. Già, so che questa persona sta rosiccando a questa creatura. Allora dice che lavoro fai? Che lavoro fai? Senza punto di domanda. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Allora, c'era un video dove spiegavo che lavoro facevo, si vede che se l'hai perso. O forse non mi segui su Instagram, ma attualmente il contratto di lavoro è scaduto e sono a casa, mi sto riposando, sono in ferie. Ok? Poi appena troverò lavoro ve lo farò sapere. Poi questo video magari uscirà che avrò già lavoro perché ho tanti video programmati, però pazienza, insomma, se mi segui su Instagram sarai sempre aggiornata. Comunque, mi trovi con Omegati, splendente. Cioè, ecco, a te hai mai vissuto una delusione amorosa tanto forte da scombussolare la tua normale percezione delle relazioni, sì, con la persona con cui mi stavo per sposare? Che avete, che ho portato anche sul canale, tra l'altro. Greg? Quindi sì, qual è l'epoca storica che ti affascina di più? L'epoca storica che mi affascina di più è un'epoca che ancora deve arrivare, se non la divinità, capirete. Sei mai stata realmente innamorata nella tua vita? Sì, non so far nome. Quale sarà il tuo vestito d'aloe in quest'anno? Io non mi travesto, però, lui, perché non vedo questa festività come una cosa, come gli altri, insomma, la vedo sotto il punto di vista più spirituale, ecco. Quindi non mi travesto, ecco, perché, cioè, non faccio la classica festa che fate voi. Mi sto giudicando, no, sto solo rispondendo al fatto che tu a Capodanno ti travesti, se vai a qualche festa in maschera, sì. Se andassi a qualche festa in maschera, probabilmente anche io mi travestirei, ma dato che la festa che faccio io è diversa, non mi travesto, ecco. Anche perché il più delle volte, cioè, magari voi, tu, magari, creatura, ti travesti da strega, io cosa mi travesto da me stessa? Cioè, i trucchi che fate voi sono magari dei trucchi che io faccio normalmente nella mia quotidianità, essendo anche una divinità goth. E quindi, e quindi non è un travestimento, sono io così, anche tante volte. Mi è stato chiesto che bella, che bel costume, dove l'hai preso? Io non ero in maschera. Anche per altre feste, io non ero in maschera, quindi anche alle file del fumetto mi chiedevano la foto, ma io non ero prima ancora di essere ecatesplendente. Mi veniva chiesta la foto, ma io non ero travestita da niente, ero solo me stessa. Quindi, allora, da quando hai cambiato stile esteticamente, com'è cambiata la tua vita, io ti vedo felice e spensierata, però ti voglio chiedere come stai. Allora, il fatto che mi vedi felice e spensierata, che quel percorso lì credo sia, non c'entra con l'aspetto esteriore, come ho già spiegato. Ho cambiato stile esteticamente, tutto in funzione del fatto che qui è un paese piccolo e paese, intendo non solo il mio, il paese dove vivo, ma anche la provincia e tutto, dove ancora si guarda l'aspetto esteriore per assumerti qualsiasi lavoro sia. Stanno a guardare, appunto, l'aspetto esteriore, soprattutto il lavoro che voglio fare io, che è un lavoro di segreteria, alla fine, perché mi sono trovata bene a farlo e quindi ho capito che voglio fare quello. L'importante è anche quando si cerca un lavoro, non farsi andare bene qualsiasi cosa, ma capire cosa ti piace e cosa sai fare. E quindi ho deciso che voglio fare un lavoro di segreteria, perché mi piace molto. E quindi ho un lavoro amministrativo, ecco, e quindi niente, quel cambiamento è stato fatto totalmente solo perché, beh, principalmente per, cioè, solo per due motivi. Uno è appunto, purtroppo, in questa zona, o comunque non è come una grande città, ma forse questa cosa succede anche nelle grandi città, non lo so, perché non vivendoci non posso esprimere la mia opinione, perché non ce l'ho al riguardo. Non vivendoci, comunque per mia esperienza, vivendo in questi paesini, l'aspetto fisico, cioè, incide parecchio sulla scelta di... Decidono che capelli colorati uguale tossica, capelli naturali uguale, sì, ci piace, con sapone, persona semplice, persona seria. Fanno questo accostamento, poi magari è una pasta psicopatica, no, non so, però... No, in realtà sono una persona seria, però non è detto che quella con i capelli colorati si droghi, cioè, abito, qui siamo ancora fermi agli stereotipi, quindi... Bisogna adattarsi, purtroppo, però in realtà sono a me stessa anche così, perché comunque è il mio coloratore dei capelli, sono io, insomma, cioè... Quando mi dite, eh, mi mancano i tuoi capelli verdi, ma chi se ne frega, c'è solo un colore, la personalità è quella, cioè, resto sempre comunque io. Le mie caratteristiche sono le più importanti, quelle interiori che quelle esteriori, perché dopo alla fine uno potrebbe ammalarsi e perdere i capelli, allora non vale più niente. Cioè, non funziona così nel mondo reale, lo so che voi siete nel mondo delle apparenze, però nel mondo reale funziona così, che è importante la sostanza, no, la conchiglia. Ecco, e quindi, diciamo che quello è stato fatto per quella cosa lì, anche perché è molto più pratico, perché tolto tutti i piercing che prima stavano lì, oddio queste palline che ogni tre secondi si svitavano, rischiamo di incogliarmi i piercing, oppure i capelli colorati sono difficili, più difficili da gestire che dei capelli naturali, che mi faccio uno shampoo e via. Invece là, con la decolorazione, poi c'era la ricrescita e poi si spiadevano i capelli, quindi perdi altro tempo. E poi erano decolorati secchi, quindi vai a fare centomila maschere, perché sennò dopo mi dicevate, e dopo le maschere mi facevano sembrare i capelli unti, quindi dopo mi dicevate, ah non ti lavi i capelli, tutto questo coso qui, che adesso ho bypassato, perché mi basta solo che mi lavo i capelli con uno shampoo tranquillo, o quello alle ortiche, o quello mio preferito, o Garnier, mi pare che sia al, non sono sicura sia Garnier però, perché quando lo vado a comprare riconosco la confezione e non la scritta, tra l'altro, ma vabbè, ha una confezione gialla, è la camomilla, quella lì, mio top, ci trovo da Dio, e mi dite infatti, ah che bei capelli sani che hai, ma me li sono solo lavata, e sono, cioè, questo è ciò che rimane, dei capelli rovinati, delle varie decolorazioni, tinte e basta, cioè, questo qui, le punte, quindi, ho quanto sbattimento in meno, quanti pensieri in meno ho adesso, un sacco, o, cioè, mi basta lavarmeli e petinarmi, sono già perfetta, invece prima c'erano un sacco di cose, di tempo che veniva perso in cose così, e anche se vai dal pollo chiaro, comunque ci mette il suo tempo, e sono anche soldi, anche soldi risparmiati, e quindi, quella questione lì, secondo me, non c'entra tantissimo con il percorso fatto per essere felice, che consiste tutto nel cambiare i propri pensieri alla fine, prima ero sempre negativa, pessimista, adesso sono super lanciata nel, ma sì, prima pensavo, eh ma se va male, adesso penso, eh ma se va bene, cavolo, devo provare, se va male, chissà, ma se va bene, cacchio, e quindi, quel percorso lì è staccato dal mio punto di vista, perché il percorso che ho fatto psicologico, psicologico, sì, per essere felice, non c'entra con quello del, ho cambiato, ho cambiato stile estetico, diciamo così, anche se alla fine è sempre il mio stile, perché sono io, quindi, infatti quando mi dicono, ma non è da te, ma tu cosa ne sai, tu sei me, se lo faccio io, vuol dire che è da me, cioè, se ho deciso così, mi sta bene, vuol dire che è da me, cioè, non è che una persona è o bianco o nero, guardate Tony Darko, non esiste solo il bianco e il nero, ci sono 4.000 sfumature, 4.000 è un numero così, da esempio, non è vero che sono spensierata, perché ho anche i miei pensieri, però il giusto, insomma, perché non bisogna rimuginare, prima regola, non rimuginare, e quindi forse è quella la spensieratezza che vedi in me, forse perché non rimugino più, però adesso è un periodo un po' che inconsciamente, per varie cose magari ho dei pensieri, però quando sono io, sveglia e posso controllarli, non rimugino, è successo qualcosa, vabbè, chi se ne è, vabbè, basta, lascia andare, lascia andare, lascia andare, fa il tuo percorso, lascia andare, perché altrimenti rimuginare è proprio una di quelle cose che ti fa soffrire, ho abbandonato anche altri pensieri, altre cose, e per quello sto meglio, volevo farvi un video a riguardo, però siccome è un video importante, e adesso, visto che sono tutti in vacanza, aspettavo questo inverno per fare sia quello e altri video che sicuramente vi piaceranno, però sono video talmente importanti che mi sembrano sprecati nel periodo in cui siete tutti al mare, tutti in vacanza, non avete l'ansia e bisogno di vederveli, dopo vanno nel dimenticatoio e basta, insomma, quindi stavo aspettando il periodo giusto, ecco, e così, o magari non vi interessa neanche, che non vi interessa stare bene, preferite seguire i soliti artisti smr spinti dall'agenzia, allora va bene, se volete continuare così, va bene, se invece volete stare bene, seguite, però è una vostra scelta, ecco. Poi, ti piace viaggiare? Quali posti hai visitato e quali ti piacerebbe visitare? Allora, avendo, onestamente, avendo vissuto una grande fetta della mia vita, l'ansia, ero tipo dentro una bolla e stavo male, non vedevo nient'altro, quindi io non ho viaggiato, perché uscire mi faceva stare male, quindi già facevo fatica a uscire da casa, figurati viaggiare, quindi non posso rispondere a questa domanda, ho viaggiato solo in Italia e mi è piaciuto, però sempre con l'ansia, quindi adesso che non ce l'ho più e che posso uscire, non ho i soldi, quindi quando avrò un lavoro fisso, dei soldi e tutto, forse non mi interesserà neanche viaggiare, perché poi avrò la mia casa, le mie cose, però magari qualche viaggetto quando sarò in ferie potrei anche farmelo, allora io volevo puntare proprio di brutto nel Giappone, però adesso mi sto un po' sciamando questa cosa, mi resta comunque il pallino, lo so che è una cosa, dici ma con tutto quello che vuoi vedere, vuoi vedere quello? Eh sì, io vorrei andare in America a vedere i negozi, i negozi, se ho capito bene, quelli di Halloween che hanno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto l'anno, 365 giorni all'anno, solo cose di Halloween esistono e io vorrei andare in America a vedere delle cose che non sono magari normali per voi, per me sono, oh mio Dio, un negozio di cose di solo Halloween, io adoro Halloween e quindi vorrei andare lì e praticamente mi comprerei tutto, vorrei visitare anche cose un po' più vicine, tipo un po' almeno tutta l'Italia mi piacerebbe visitarla, soprattutto vorrei andare in Sardegna, a posti così, posti caldi, perché posti freddi, io sono una persona freddolosa, quindi i posti freddi non mi attraggono tanto, a meno che non abbiano un negozio di Halloween, allora sì, ci vado. Dove è stata la vacanza più bella, divertente che hai fatto? Non so rispondere a questa domanda perché potrei dire la vacanza dell'anno scorso che anche se non sono stato in un posto particolare, però stavo bene e quindi mi sono divertita e stavo bene, però non è stata una vacanza, tipo che ci sono andato lì, sono andata in vari posti diversi, ma non era tanto il posto dove sono andata, ma è stato lo stato d'animo nel quale mi sono trovata, diciamo, e quindi mi sono, perché tutto quello che facevo prima con l'ansia era racchiuso da sta bolla che non mi permetteva di stare bene, quindi non me la vivevo bene, stavo male continuamente e non riuscivo a capire niente perché ero come rincoglionita da sta ansia che appunto non mi faceva godere delle cose, adesso invece esco, sono tutta così sorridente, saluto tutti, comunque è un nuovo gioco. Siccome nonostante io, allora, prima tutti, quando uscivo tutti mi guardavano e mi fissavano e dicevo, vabbè, c'ho i capelli verdi, vabbè, sono vestita blackster, sono vestita got, gotica, sono vestita, e allora ci sta, magari stavo in pieno agosto con gli anfibi, dico, vabbè, ci sta che mi fissano, ma adesso, perché la gente, prima aveva i piercing, adesso sono piercing capelli normali, forse per quello, perché adesso tutti sono alternativi e io sono quella, magari adesso tutti sono alternativi, con tatuaggi, capelli colorati, vestiti strami, io sono quella acqua e sapone, forse mi fissano per quello, non lo so, comunque adesso ogni persona che mi fissa ha il mio nuovo gioco, lo saluto, così, quindi buongiorno, faccio proprio tutta come se fossimo best friend, e quindi provate anche voi questo gioco, è super divertente, specialmente le persone anziane cambiano espressione, ti guardano così e poi ti fai buongiorno, e allora, buongiorno, e vanno via tutti contenti, è bellissimo, è stupendo, però oggi, hai mai avuto esperienze romantiche con una donna, se no, precludi questa possibilità, oppure lasci spazio, essendo pansessuale, e sì, poi bisogna vedere cosa intendi per esperienze romantiche, perché ho avuto tre ragazze, quindi, tre ragazze in cui sono stata fidanzata insieme, come si dice, morose, quindi, sono esperienze romantiche queste, penso di sì, sì, perché no, anche se attualmente sono etero, perché fa ridere, insomma, a me fa ridere, dopo, ve la spiegherò, se non l'hai capita, chiedemelo in privato, te la spiego, sei sempre stata una persona creativa, come l'esprimevi durante l'infanzia e come lo fai ora, sì, sono sempre stata una persona creativa, anche se all'elementario ho avuto degli insegnanti veramente raccappreggianti, non so che la mia ansia sia iniziata da tutte queste piccole cose, e c'era, in primis, partita per colpa della mia famiglia, però vabbè, e poi per un non susseguirsi di eventi di me, forse un giorno farò un video dove lo racconto, forse no, intanto non importa a nessuno, quindi penso che lo farò, e quindi niente, c'era, vi ricordo questa professoressa, no, era delle medie, non delle medarie, era delle medie, quelli delle medie erano veramente ancora più agghiacciati, veramente delle persone incompetenti, e questa professoressa di storia dell'arte, no, che mi diceva che io non sapevo disegnare, e che non sapevo fare niente, non so, ce l'aveva su con me, non so cosa gli avessi fatto, onestamente io, semplicemente, tranquilla, infatti dopo mi hanno fatto incazzare le superiori, sono diventata blackster, tu sa, super incazzata col mondo, perché, già, non facevo niente, ero buona, e mi prendevo parole da tutti, quindi, vabbè, la mia creatività è partita dal fatto che non avevamo tanti giochi quando eravamo piccoli, e perlomeno io e mia sorella non avevamo tanti giochi, perché magari, al compleanno, così, a Natale, preferivano regalarci, non so, il pigiama, le cose utili, come diceva mia mamma, le cose utili, quindi non erano mai giochi, erano, non so, libri o vestiti, cose del genere, e quindi ci dovevamo, ci siamo dovuti attrezzare con la fantasia nel crearci giochi, e quindi si facevano quelle bamboline fatte con il mais, con la pannocchia, poi, che poi servivano anche per altre cose più avanti, però, chi conosce la stregoleria sa, comunque, prima ce le faccio per giocare, poi, tipo, non avevamo la colla, e allora si andava a prendere dagli alberi la resina, e si creava questa colla, e insomma, tante cose del genere, sotto da una bambina povera, come non puoi notare, non avevo la colla, però, vabbè, e quindi, niente, secondo me, tutte queste cose mi hanno portato a stimolare la mia creatività, cose che magari i bambini di adesso, che hanno lo smartphone, e hanno tanta tecnologia, se li metti in un prato, non sanno fare niente, cioè, io, tipo, attraverso i fiori, le foglie, tutto creavo di colori, e riuscivo a colorare senza veri colori, per esempio, cioè, mia fantasia era super stimolata dal fatto che, appunto, non avevo la materia prima, e quindi dovevo crearmela, quindi questa, secondo me, è stata la valvola che mi ha fatto imparare anche a aggiustare le cose, risolvere le cose, non, se si rompe una cosa, butto via, no, se si rompe una cosa, c'è solo quello, non puoi avere altro, te lo aggiusti, quindi ho imparato anche a aggiustare le cose, e se non sono capace, trovo modo per aggiustarle, quindi, secondo me, quello mi ha aiutato tanto a stimolare il cervello, sotto quel punto di vista, poi, dopo, se mi chiedi di contare, non ti so contare, cioè, nel senso, so contare, però, con i calcoli, sono una pippa, invece, nel campo creativo, cioè, ti batto subito, cioè, quindi, quello, secondo me, mi ha servito tantissimo, cosa che non verrà stimolata ai bambini, che hanno tutto, non è stata stimolata ai bambini, che hanno tutto, quante cose non sai di me, che ho tu, e adesso faccio i video, creo, un disegno col pirografo, visto che non so disegnare, e, visto che non so disegnare, sono grafico pubblicitario, ma, alle medie, io non so male disegnare, è deciso dalla professoressa, che saluto, ciao, grazie per non aver creduto mai in me, e, nonostante questo, sono diventata una divinità, c'è gente che mi venera, ma, io non so disegnare, giusto, cose con la resina, insomma, le cose che mi vedi fare, su Instagram, o che ho fatto, su YouTube, sono cose creative, faccio creazioni a mano per la mia migliore amica, tutte quelle cose lì, per me, è creatività, anche fare i video, editarli, perché li faccio, le edite, tutto, stai pensando di farti una famiglia? Sì, come tutti penso, cioè, anche se sei da solo, sei una famiglia, c'è un nucleo familiare, anche se sei una persona singola, quindi, potremmo essere una famiglia, io e sembra, ah, prossimamente, non so se l'avrei già visto, ma deve uscire un video dove i miscredenti si ricrederanno, ecco, quali erano i tuoi sogni da bambina e adolescente, alcuni li hai realizzati? Allora, uno, quello della casa, che l'ho realizzato, pian piano, con sudore e fatica, e ce l'abbiamo, l'abbiamo portato a casa, poi, da bambina, vabbè, non mi ricordo che sogno avevo, probabilmente, essere felice, stare bene, e quello l'abbiamo portato a casa, poi, dopo ho avuto il sogno della macchina, e l'abbiamo portato a casa, poi, insomma, ho un sacco di sogni realizzati, io ho avuto i sogni, ho avuto i sogni impensabili, tipo cose assurde, da bambini, e quindi, vabbè, quelli per forza non li realizzi, alcuni sono stati realizzati, e vedrete, pian piano, che non dico cabulate, altri, invece, erano davanti assurdi, poi alcuni non me li ricordo neanche, perché si vede che, cioè, ho rimasto alcune cose mie, le ho rimosse dal cervello, per fortuna, penso, che obiettivi hai, alcuni li hai raggiunti, ecco, i sogni e gli obiettivi, io ho guardato le stesse cose, quindi qua ho già risposto, avevo fatto quel barattolo degli obiettivi, in realtà alcune cose vanno tolte, però, magari lo farò, l'obiettivo principale adesso è quello del lavoro, ma arriverò anche lì, non ti preoccupare, creatura, ormai sono super lanciata, e altri obiettivi che non ho detto, che c'erano, sono comunque stati raggiunti, che erano cose molto personali, quindi direi che, perché comunque, come ho già detto alla mia amica Monia, che il mio progetto di vita non è chissà cosa, voglio solo una casa, la mia macchina, un lavoro che mi dia uno stipendio per mantenermi in modo dignitoso, cosa significa in modo dignitoso? Significa che ho i soldi per pagarmi le mie cose, cioè le tasse, quelle lì, le bollette, eccetera, eccetera, i soldi per mangiare, i soldi per le emergenze, perché può succedere che ti si rompe la lavatrice o succede qualcosa che devi aggiustare, e i soldi per la macchina, perché comunque avere una macchina significa avere una spesa, e quindi ti servono per il bollo, l'assicurazione, il gasolio, eccetera, eccetera, o appunto quelli dell'emergenza, se si rompe qualcosa dell'auto, perché quando si usano e quando non si usano le cose, e si rompono comunque, quindi bisogna sempre avere dei soldi da parte, poi io non sono una di quelle che vuole le cose di marca, io i miei make-up ce li ho, se proprio me li prendo da Shiglam, che costano economici, oppure me li regalaggio a Lucca, investiti, pago un euro, magari se mi salta fuori qualche soldino extra, perché io vorrei continuare comunque ad avere come hobby, fare i video, perché per me significa tanto poter esprimermi anche in questo modo, poi si è creata una community veramente bella, che siete voi, che io mi tengo stretta, e quindi questo mi interessa avere nel mio futuro, non mi interessa tanto altro di diverso, se avrò qualcuno accanto bene, se no io mi basto comunque da sola, perché il mio obiettivo è avere la mia casa, la mia indipendenza, in modo molto, prima mi sono molto prodigata, e sacrificata per gli altri, adesso è arrivato il momento che penso a me stessa, che stia bene io, e che quindi se c'è qualcuno accanto a me è bene, se no io vado anche avanti per la mia strada da sola, non ho problemi, anche perché li so farmi da sola tutte le mie cosette, quindi questo diciamo che è il mio obiettivo finale della mia vita, io avrò la mia casa, il mio ordo, la mia verdura, il mio spazio, i miei video, la mia community, e basta, cioè il mio lavoro, la mia macchina, tutte cose mie, la mia Sam, che spero che stia bene, la mia Sam sana, e felice anche lei, quindi questo è, questi sono i miei progetti di vita, non chiedo chissà cosa, non voglio, magari anche qualche soldino, però qualche viaggetto ci sta, ma per andare a trovare le persone, più che andare a visitare un posto, e quindi le persone amicare, anche persone conosciute su internet, anche qualche creatura in quel senso, qualche artista smr, però, non è che c'è un posto che dico, mio Dio devo andare lì assolutamente, e le domande su Instagram, sono molto poche rispetto a quelle di YouTube, fare un video con le rune, l'ho già fatto, anche più di uno, perché ci sono state anche delle live, poi, c'è un lavoro all'orizzonte, ti auguro tanto di sì, io adesso lo sto cercando, poi quando lo troverò, vi farò sapere, pratichi stregoneria, non so, vedi tu sono la divinità delle streglie, che vedi tu, poi, come sta Sam, Sam, sta, avete visto l'aggiornamento, speriamo insomma, che guarisca presto, e poi, tre sogni della tua vita, ho già detto, c'è domande un po' così ripetitive, quelle di Instagram, piuttosto quelle di YouTube, e il commento iniziale che volevo fare, è che, vedo gli altri che mettono in box informazioni, gli arrivano delle domande, super mega, fanta, le mie domande, che segno sei, scusa, ma, ma, sono serio, però, non ho affatto polemiche, anche se tanto, sul finale nessuno, saranno, sarete già tutti addormentati, quindi posso permettermelo, e mi ha fatto ridere, sta cosa, che tutti hanno domande, super mega, fanta, chiedo io, un po' di domande, che segno sei, vabbè, ok, non lo so, mi sembra, non credo nei segni, io, ecco, ho fatto un intero whispering, lo volevo fare lento, ma, c'erano troppe domande, troppe cose da dire, poi veniva lunghissimo, la riprovo, più avanti, a fare un altro lento, perché, quello che ho fatto, puff puff, non so se è già uscito, che è stato lento, dove parlavo, mi è piaciuto tanto, però, ho troppe cose da dire, non posso farle lente, se no, vengono dei video lunghissimi, e dopo non riesco a caricarli, con la mia connessione, comunque, spero che questo video ti ci sia piaciuto, ti auguro un buonanotte, buon relax, ciao creatura,